buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale oggi faremo insieme questo bellissimo punto fantasia un punto adatto a preparare le cose per la stagione che arriverà magliette maglioncini più leggeri sciarpe stole e chi più ne ha più ne metta è un punto facilissimo si lavora su un multiplo di quattro e i punti impiegati sono appunto alto punto basso e catenella andiamo alla spiegazione del punto io ho già montato 24 catenelle che sono un multiplo di quattro faccio una catenella aggiuntiva per girare il lavoro entro nella catenella successiva faccio un punto basso aggiungo due catenelle che fungeranno da primo punto alto aggiungo altre due catenelle filo sull'uncinetto conto 12 ed entro nella terza catenella che ho a disposizione e faccio un punto alto filo sull'uncinetto e faccio un altro punto alto faccio due catenelle di separazione salto due catenelle di base e faccio un punto alto entro in quella successiva faccio un altro punto alto faccio altre due catenelle di separazione salto due catenelle di base e lavoro due punti alti nelle due catenelle che ho subito a disposizione e così fino alla fine della riga faremo due catenelle salteremo due catenelle di base e andremo a fare due punti alti nelle due catenelle che abbiamo subito a disposizione arrivati a questo punto stiamo per finire il giro finiremo il giro con due catenelle e andremo nell'ultima catenella che abbiamo da lavorare e faremo l'ultimo punto alto salgo con tre catenelle e queste saranno il mio primo punto alto aggiungo una catenella entrò nell'archetto che ho subito sotto ed eseguo un punto basso e di nuovo faccio una catenella vado sui due punti alti che ho subito a disposizione e faccio due punti alti aggiungo una catenella di separazione entrò nell'archetto e faccio un punto basso di nuovo una catenella entrò nei due punti alti che ho a disposizione e faccio due punti alti faccio una catenella di separazione entrò nell'archetto e faccio un punto basso aggiungo una catenella e di nuovo entrò nei due punti alti del giro sottostante con due punti alti uno per punto lavorati gli ultimi due punti alti che abbiamo a disposizione esegue una catenella entrò nell'archetto faccio un punto basso faccio di nuovo una catenella e dentro nella catenella la praticamente alla terza quella che conclude il punto alto del giro sottostante entro faccio un punto alto salgo con tre catenelle ne aggiungo altre due che saranno le due catenelle di separazione filo sull'uncinetto e lavoro i due punti alti che ho del giro sottostante eseguo altre due catenelle filo sull'uncinetto e vado a lavorare i due punti alti del giro sottostante con due punti alti punto su punto e di nuovo faccio le due catenelle di separazione e lavoro i due punti alti con altrettanti due punti alti così fino alla fine del giro arrivato all'ultimo gruppo di punti eseguo le mie due catenelle e dentro nella terza catenella delle tre catenelle che vanno a sostituire il punto alto iniziale del giro precedente ed ecco qui che ha cominciato a formarsi il disegno di questo punto che io trovo molto molto bello ora andiamo avanti a lavorare con il giro successivo ho lavorato il mio ultimo punto alto salgo con tre catenelle eseguo una catenella di separazione giro il lavoro e dentro nell'archetto facendo un punto basso faccio una catenella di separazione e lavoro due punti alti nei due punti alti che ho a disposizione nel giro sottostante eseguo una catenella entra nell'archetto faccio un punto basso filo sull'uncinetto vado a lavorare i due punti alti con altri due punti alti punto su punto faccio una catenella di separazione vado nell'archetto il lavoro un punto basso di nuovo una catenella e lavoro i due punti alti che ho subito dopo eseguo una catenella punto basso nell'archetto che subito a disposizione aggiungo un'altra catenella e lavoro i due punti alti con altrettanti punti alti e così via dicendo catenella punto basso catenella punti alti arrivo alla fine del giro e chiudo con un punto alto ed ecco che comincia a vedersi la bellezza di questo punto vado avanti a lavorarlo ancora un po' e poi dopo vediamo insieme il campione finito ed ecco che ho finito il mio campione è un punto semplicissimo facilissimo velocissimo che più ne ha più ne metta e questo è il risultato con un filo grosso l'uncinetto del 4 e mezzo mentre il campione che avevo fatto in precedenza ho usato un filato un po' più sottile è sempre una lana un po' più lucida è un uncinetto ovviamente più piccolo e guardate che bel risultato che abbiamo ottenuto lo trovo molto adatto per fare delle magliette dei copricostumi da mettere come bordo nelle magliette oppure fare delle tuniche con le maniche con questo motivo delle stole dei coprispalle lo trovo veramente molto molto bello e con questo ho finito come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare poi la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video ricordo anche che sono su facebook e telegram i link ve li lascio qui sotto nel box informazioni ciao a tutti